Le città sottili, punto! Se volete credermi, bene, ora dirò come è fatta Ottavia, città ragnatela. C'è un precipizio in mezzo a due montagne scoscese, la città è sul vuoto, legata alle due creste con funi e catene e passerelle. Se si cammina sulle traversine di legno, attenti a non mettere il piede negli intervalli, o ci si aggrappa alle maglie di canapa. Sotto non c'è niente per centinaia e centinaia di metri, qualche nuvola scorre, si intravede più in basso, in fondo del burrone. Questa è la base della città, una rete che serve da passaggio e da sostegno. Tutto il resto, invece di elevarsi sopra, sta appeso sotto. scale di corda, amache, case fatte a sacco, terrazzi come navicelle, otri d'acqua, becchi del gas, girarrosti, cesti appesi a spaghi, montacarichi, docce, trapezzi e anelli per i giochi. teleferiche, lampadari, basi con piante dal fogliame pendulo. sospesa sull'avviso, la vita degli abitanti d'Octavia è meno incerta che in altre città. sanno che più di tanto la rete non regge. le città sottili, punto. 5, punto. se volete credermi, bene. ora dirò come è fatta Ottavia, sta ragnatela. c'è un precipizio in mezzo a due montagne scoscele. la città è sul ruoto, legata alle decrette, con funi e scatene e passerelle. si cammina sulle traversine di legno, attenti a non mettere il piede negli intervalli, o ci si aggrappa alle maglie di canapa. sotto non c'è niente per centinaia e centinaia di metri. qualche nuvola scorre. si stravede più in basso il fondo del porrone. questa è la base della città, una rete che serve da passaggio e da sostegno. tutto il resto, invece di elevarsi sopra, sta appeso sotto. scale di corda, amache, case fatte a sacco, attaccapagni, serrati come navicelle, potri d'acqua, specchi del gas, gira arrotti, cesti appesi a spaghi, montacarichi, docce, trapezzi e anelli per i giochi, teleferiche, lampadari, vasi con piante dal fogliame pendulo. sospesa sull'abisso, la vita degli abitanti d'Ottavia è meno incerta che in altre città. sanno che più di tanto la rete non regge. sospesa sull'abisso, la vita degli abitanti d'Ottavia è meno incerta che in altre città. sospesa sull'abisso, la vita degli abitanti d'Ottavia è meno incerta che in altre città. sospesa sull'abisso, la vita degli abitanti d'Ottavia è meno incerta. sospesa sull'abisso, la vita degli abitanti d'Ottavia è meno incerta. sospesa sull'abisso, la vita degli abitanti d'Ottavia è meno incerta. sospesa diciamo al processo, la vite degli abitanti d'Ottavia è meno incerta. oss였i una uniforme al processo. sospesa sull'abisso, la vita degli abitanti d'Ottavia è più aperto. sospesa ca un changesilo di tubo positivo verso gli abitanti d'Ottavia è meno incerta. Grazie a tutti. 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 Lorenzo Valori guiderà la chiusura degli ombrelli. Facciamo riferimento a lui. Grazie a tutti. Vai Lorenzo. Gli ombrelli vanno giù. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.